Ciao a tutti, io sono Rosy di Parrucchiere Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Se vuoi saperne di più di come affrontare il problema dei tuoi capelli, tutti i miti da sfatare, tutte le dicerie, ma soprattutto tanti consigli per te, per avere dei capelli belli, sani e forti, allora ti dico scarica la nostra guida gratis Revolution Way che puoi trovare sul nostro blog e tutti i nostri consigli scritti apposta per te. Inoltre, se invece vieni a trovarci qua in salone, la nostra news, la bellezza in un taglio, tutto quello che devi sapere sul taglio di capelli, tutto quello che devi sapere per farti tagliare i capelli nella maniera corretta, per sapere se quello che ti stanno facendo è la cosa giusta. Oggi invece voglio parlarti dei capelli ricci, di come tante donne, e soprattutto parlo con te che hai capello riccio, scusate metto via i libri, per te che hai il capello riccio, un argomento abbastanza contorto, le sfide quotidiane che chi ha i capelli ricci affronta. È vero, il capello riccio può essere bello quando è curato, quando è tenuto bene, quando non è crespo, quando non è lucido è veramente bello ed è ammirato da tante persone, soprattutto da chi non li ha ricci. Il riccio è ambito da tante persone, ma nasconde per chi ce l'ha tante problematiche. Il crespo, uno dei nemici principali del capello riccio. L'umidità è un fattore veramente impegnativo da affrontare, perché quando c'è tanta umidità il capello riccio tende a essere ingestibile, si gonfiano, perde la forma e la secchezza, chiaramente, come dicevo prima, è un comune denominatore al capello riccio, perché il capello riccio chi lo ha sa che perde veramente tanta idratazione, soprattutto chi magari ha un capello riccio sottile. Tutte queste difficoltà possono avere veramente un impatto, io lo dico sempre, le difficoltà dei capelli, l'avere il capello non a posto, non in ordine, non lucido, soprattutto per chi ha i capelli ricci, può essere veramente frustante. Può non farti sentire a posto con te stessa e la fiducia in te stessa sceglie. Guardarti allo specchio è fondamentale, l'autostima ne risente, perché i capelli, lo sappiamo benissimo, soprattutto per una donna, sono un fattore fondamentale per la propria bellezza. Ma io ti dico una cosa, ti faccio sorridere, c'è una soluzione, la revolution è la tua soluzione. I nostri esperti, prima di tutto col taglio giusto, perché lo sapete benissimo che il capello riccio ha bisogno di un taglio studiato apposta, non è la stessa cosa come tagliare un capello dritto. Il capello riccio ha più difficoltà, perché magari prende troppi volumi, anche se il volume in un capello riccio ci deve stare, ma magari vengono messi nei punti sbagliati e quindi il tuo capello, la tua forma, il tuo viso non ti piace. E noi invece abbiamo la soluzione, abbiamo la soluzione perché usiamo determinate tecniche apposta studiate per te che hai i capelli ricci, inoltre trattamenti mirati per far sì che il tuo capello riccio ritorni sano, bello, lucido, idratato. Non lasciare che il tuo capello riccio ti faccia sentire non apprezzata, soprattutto non apprezzata a te stessa. Quindi contattaci 0371898900 oppure 34099723 è il nostro whatsapp. Ricordati, i tuoi capelli ricci possono tornare a splendere, quindi non esitare, contattaci subito. Mi raccomando, ti aspettiamo. Ora ti saluto e ti auguro buon appetito. Ciao!